Oggi parlare di fibromialgia è davvero difficile. Si tratta di una sindrome costellata da diversi segni clinici e manifestazioni, il cui principale elemento è il dolore, il dolore cronico. Questo viene accompagnato da una serie di altre manifestazioni come la notte poco riposata, la fascia di faticabilità o ancora i disturbi cognitivi che rendono davvero difficile lo svolgimento delle normali attività quotidiane nel paziente fibromialgico. E proprio per questo oggi si deve parlare di fibromialgia perché è necessario che i medici abbiano conoscenze necessarie per poter attuare una la diagnosi e seguire nel migliore dei modi il paziente. Oggi si parla di fibromialgia, di sindrome fibromialgica con un approccio multidisciplinare. Non basta il singolo medico che fa la diagnosi ma è necessario che un team di specialisti possano tra loro confrontarsi e prendere in carico il paziente per la migliore possibile gestione di questo e per la modulazione di tutte le manifestazioni che la sindrome presenta. La formazione è l'anello più importante della catena che collega la sanità al paziente. Purtroppo in questo campo della fibromialgia ancora bisogna vincere molte resistenze da parte del personale sanitario in generale. E quindi formare e soprattutto sensibilizzare il personale sanitario ci è sembrato importante per poter vincere appunto questo gap e consentire sempre a più medici di accogliere come è giusto con un approccio multimodale il paziente fibromialgico. La formazione abbiamo deciso, credo che sia l'unica regione in tutta Italia che sta facendo un progetto di formazione così a tappeto in tutte le province della regione. Non ho notizia di altre attività formative così capillari proprio perché non volevamo limitarlo al territorio di Palermo da cui partiamo ma i pazienti sono in tutta la Sicilia e volevamo agire in tutta la Sicilia. La nutrizione al pari di un altro trattamento terapeutico specifico per i pazienti fibromialgici ha un grande effetto in quanto è in grado di preparare il terreno, quindi il metabolismo al trattamento e quindi migliorare l'efficacia anche degli ulteriori trattamenti ai quali il paziente poi successivamente verrà applicato. Il trattamento nutrizionale trova le sue indicazioni nel tentativo di rigenerare quelle parti delle funzioni metaboliche che vengono perse a seguito dell'insorgenza della malattia stessa. La nutrizione ancora di più in questi ultimi anni è entrata a far parte proprio del trattamento terapeutico in maniera specifica in questo caso del paziente fibromialgico. Quindi abbinare oltre alle terapie farmacologiche anche un percorso nutrizionale è indispensabile per far migliorare l'effetto terapeutico dei farmaci precedentemente utilizzati e le condizioni cliniche del paziente che in quel momento si sta avvicinando appunto a queste terapie. La fibromialgia per quello che è l'inquadramento nosologico attuale è più ritenuta una patologia di pertinenza aromatologica, però è ben noto soprattutto dall'evidenza degli studi che emergono negli ultimi anni che alla base della malattia c'è molto probabilmente un'alterazione di sistemi complessi di elaborazione e percezione di stimoli sensoriali che vedono soprattutto convolte le strutture corticali. Quindi l'impegno, il ruolo del sistema nervoso centrale soprattutto delle strutture più alte è sicuramente di tutta rilevanza. Sotto questo profilo si potrebbe anche diciamo così prevedere in un futuro un inquadramento con la patologia neurologica nel momento in cui emergano in modo più consistente le evidenze relative alle disfunzioni corticali e sia anche possibile prevedere degli interventi specifici che abbiano poi anche su queste disfunzioni che abbiano poi anche una valenza terapeutica definita. La psicoeducazione è un approccio che ha dato già a partire degli anni Ottanta ottimi risultati per quanto riguarda la possibilità di aiutare il paziente a gestire malattie di carattere psichiatrico. Da una decina d'anni si ritrovano studi significativi anche relativamente alla gestione delle malattie croniche, tra queste la fibromialgia. La giornata di oggi in realtà non è stato altro che avvalorare di quanto sia importante educare attraverso l'informazione, la formazione, la sensibilizzazione, il paziente a conoscere la propria malattia e quindi le possibilità, le strategie che ha per poter fronteggiarla il paziente ma anche i familiari nel senso che molto spesso la psicoeducazione è rivolta anche ai familiari perché le malattie croniche come caratteristiche hanno quelle poi di coinvolgere l'intero nucleo familiare e quindi educare in questo senso anche il familiare è assolutamente centrale. Permette di creare una collaborazione attiva nella gestione della malattia, è un clima più positivo in cui poter vivere e quindi fronteggiare il malessere che la malattia comporta. In questi termini poi si parla spesso di approccio psicoeducazionale che più generalmente è un approccio che può fare un medico senza una formazione specifica di carattere psicologico e quindi anche un infermiere, un medico di medicina generale che di per sé comunque è utile. Poi c'è un approccio psicoeducativo che è di pura pertinenza psicologica perché usa e si avvale dell'uso di tecniche psicologiche ben precise e quindi anche di una formazione clinica. che è fondamentale nel caso in cui si lavori con i gruppi o con soggetti che possono anche avere problematiche di carattere psichiatrico o psicologico importante.